Ciao ragazzi, oggi vi presento un nuovo prodotto della gamma QD, XDB The Sound Controller. Andiamo ad aprire la scatola e scopriamo insieme che cos'è. Per potervi spiegare meglio che cos'è questo dispositivo abbiamo creato questo piccolo manichino. Il Sound Controller sostanzialmente vi permette di controllare la posizione della valvola originale dello scarico della vostra moto, ove sia presente, oppure se montate uno scarico aftermarket dotato di valvola potete in questa maniera controllarlo a vostro piacimento. Abbiamo quindi preso un motorino valvola originale di una moto e una valvola. Con la pulsantiera in dotazione voi potrete controllare la valvola totalmente aperta, chiusa al 50% o totalmente chiusa. Questo può essere fatto su tutte le moto che sono dotate di valvola originale. Andiamo a vedere all'interno della scatola al nostro kit come composto. All'interno della confezione quindi troviamo la nostra pulsantiera che andremo a montare sul manubrio della moto, composta da un pulsante di apertura e un pulsante per la chiusura e andremo a trovare il cablaggio. Il cablaggio è molto semplice, ha uno spinotto doppio che andrà interposto al cablaggio di comando del motorino originale. Poi abbiamo questa scatoletta dove dentro c'è il nostro circuito con il nostro processore di controllo. Questo cavo più lungo sarà quello che porteremo sul manubrio e andremo ad attaccare alla nostra pulsantiera in questo modo e poi tramite questi due cavi andremo ad alimentare il sistema andando a prendere un polo positivo e la massa sulla moto. Spostiamoci a questo punto e andiamo a vedere dal vivo come funziona questo sistema direttamente su una moto, per esempio su una bellissima Ducati di Street Fighter. Eccoci qui sulla nostra Street Fighter dove abbiamo montato l'XDB Sound Controller. Abbiamo intercettato il cablaggio del motorino valvola che sta qua sotto, abbiamo preso il polo positivo e il polo negativo, abbiamo fatto correre il nostro cavo sotto le plastiche e abbiamo posizionato la pulsantiera qua, come vedete sul manubrio. Accendiamo la moto e vediamo come si comporta. In questo momento abbiamo la valvola completamente aperta. Chiudiamo la valvola, posizione intermedia completamente chiusa. Andiamo a riaprirla. Vediamo che questo dispositivo è montabile sulle moto che sono già dotate di valvola originale, quindi sulla marmitta originale oppure su una marmitta aftermarket che sia dotata di valvola. Utilizza il servomotore e tutto il cablaggio e la gestione originale della moto. Vi ricordo anche che montare questo dispositivo invalida l'omologazione, in quanto non è consentito dalla normativa controllare il suono manualmente. Quindi è un dispositivo esclusivamente racing. trovate tutti i dettagli su questo prodotto e le istruzioni di montaggio sul nostro sito ufficiale qdexhaust.it nell'apposita sezione XDB The Sound Controller. E buon divertimento a tutti!